La collaborazione con il FAI è partita ad Assisi, nel Terzo Paradiso, e qui continua con il Terzo Paradiso e la Nella Rente Grande, a Milano. Il FAI protegge la natura, protegge la cultura del passato e con queste opere insieme cerchiamo di portare la cultura nel futuro. Questa collaborazione mi sembra molto fertile e quindi io penso che continuerà.